è stato soprannominato ciclone ciara si sta battendo sull'europa e il nostro paese l'italia trema l'allerta è montata a livello meteorologico in diverse parti del regno unito dall'inghilterra al garles fino alla scossia per colpa di ciara che si è abbattuto sul paese come in francia da anche altrove piogge battenti eventi piuttosto forti punti fino a 160 km all'ora l'emergenza sta creando non pochi intoppi ai trasporti con ritardi voli cancellati alluvioni smottamenti stagli paventi ricorsi d'acqua e che più ne ha più ne metta la leggera isabetta rinuncia ad uscire la sua residenza di sandingham norfolk per andare a messa vede ricevo che se diversi compagnia non hanno addirittura cancellato parte dei loro voli attuali fino a gatewick sebbene la capitale sia meno battuta da altre zone vi ringrazio per l'ascolto di questo video di oggi vi ringrazio altresì per la relativa visione un saluto caro d'Aliandro non ha roto l'italiano